Come va? Bene! Davvero? Sì, alla grande! Ma io non ti capisco. Tu sei sempre allegro, ottimista. Con tutto quello che succede, come fai? Beh, grazie al quadro. Che quadro? Il quadro magico che ho in soffitta. Hai un quadro magico in soffitta? Sì, è un mio ritratto. E cosa avrebbe di magico? Ringiovanisce al posto mio. Ringiovanisce. Sì, ho capito. È una roba alla Dorian Gray. Esatto. Aspetta, ma quello di Dorian Gray invecchia. E il mio invece ringiovanisce. Perdonami, ma che cazzo di senso c'ha? Perché? Come perché? Tu invecchi. Pure in fretta? Pure in fretta. E c'ha in soffitta il ritratto che ringiovanisce. Beh, non mi sembra una gran genialata. Anche io all'inizio ero scettico, ma t'assicuro che mi ha svoltato la vita. Cioè? Per esempio, metti che la polizia carica. Adesso non carica più me. Carica il quadro. Ah. Vorrei ben vedere. Io sono un distinto gentiluomo di mezza età. Il quadro c'ha vent'anni. Il carabiniere non si pone neanche il problema. Capisco. Ma mica è finita qua. Per dire, chi si becca l'ultimo posto per qualità dell'istruzione in Europa? Il quadro? Il quadro. E a chi tocca fare un lavoro sottopagato e precario nella speranza un domani di avere una vaga stabilità economica? Il quadro. Chi non può permettersi di avere figli? Il quadro. Io fra sei mesi vado in pensione. Indovina chi me la versa. Mi sa che l'ho intuito. E non può manco lamentarsi. Giustamente perché è un quadro. No. Perché è un giovane. Lui ci prova pure ogni tanto a spiegare la situazione. A dire che non ha futuro. Che è intrappolato in questo limbo infernale. E tu? E io gli dico che è un paraculo. Un parassita. Che sta sempre a lamentarsi. Che non ha voglia di fare un cazzo. Che io mi sono spaccato la schiena. E che se vuole cambiare le cose scenda in piazza come ho fatto io nel 68. Ma tu non hai fatto il 68. Ma lui non lo sa. E per quanto rimane giovane sto quadro. E questo il bello. Quanto mi pare. Fra 30 40 anni è ancora giovane. Basta dirgli che è così e comportarsi di conseguenza. Mentre io rimango eternamente la forma di vita più potente sulla faccia della terra. Il sessantenne. La politica mi blandisce. La cultura cerca la mia approvazione. La televisione è calibrata su di me. E persino nei social ormai comando io. Nessun rimorso. Nessuna autocritica. Nessun passo indietro. Mh. Bello. Vero eh? Io mi sento rinato. Mi sento di poter fare tutto. Poche storie. La giovinezza è una malattia. E finalmente sono guarito. Il passato e il presente sono miei. E il futuro? Il che? Senti ma il quadro è bello? Bellissimo. Mi fa incazzare da quanto è bello. E perché sta in soffitta? Ovvio. Perché non si può permettere un posto più grande.